Iniziamo dalla 11 dove si segnalano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa In A12 3 km di code a tratti per incidente al km 152 tra Pisa centro e l'allacciamento con la 11 in direzione Genova Per lavori è chiusa l'entrata di Rosignano Marittimo in direzione Genova In A1 in direzione Roma rallentamenti tra Badia e Aglio, siamo sulla direttissima In Fipili in direzione Mare rallentamenti tra Scandicci e la Strassigna con code in uscita alla Strassigna In direzione Firenze rallentamenti tra Scandicci e Firenze e Scandicci Sul raccordo Siena-Firenze rallentamenti per lavori tra Firenze in Pluneta e San Casciano in Valdipesa in entrambe le direzioni Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze Buon viaggio! Buon viaggio!